puntualissime alle 10.45 si apre questo spazio in diretta che si chiama tempo d'estate buongiorno a tutti buon inizio di settimana 9 agosto questa sarà una settimana molto calda perché non solo è quella preferita dagli italiani per le vacanze per spostarsi e regalarsi qualche giorno di ferie ma da un punto di vista meteorologico sarà davvero rovente speriamo davvero che sia l'ultima settimana da questo punto di vista poi speriamo che le temperature insomma un po si abbassino e allora lo vedo già pronto collegato dalla chiesa di san pio munito di mascherina un po più bianco del solito anche perché le sue ferie ormai sono lontano ricordo leonardo buongiorno ben trovato ciao paola buongiorno hai ragione per fortuna e purtroppo per me sono qui all'ombra insomma vorrei stare in altri posti però è sempre un piacere poter restare in compagnia dei nostri carissimi telespettatori hai detto bene comincia una settimana importante la più importante dell'estate come qualcuno ama definirla la settimana di ferragosto per noi sarà una settimana di duro lavoro perché saremo impegnati su diversi fronti a partire da queste dirette mattutine che sono ormai diventate pane quotidiano non solo per noi ma anche per i nostri amici telespettatori come testimoniano anche le numerose mail che riceviamo in redazione ma anche i feedback che personalmente riceviamo attraverso appunto i nostri profili social o comunque attraverso telefonate e messaggi dicevo settimana impegnativa perché questa è una settimana che da sempre ha contraddistinto la vita e la storia di questo santuario non lo dico per retorica ma perché effettivamente è così partiamo da domani per esempio 10 agosto ricorre l'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di padre pio un appuntamento molto importante molto molto sentito l'11 agosto santa chiara come non ricordare la poverella che assieme a francesco ecco ha dato il la creazione di un nuovo movimento che poi ancora oggi riusciamo a vedere nell'abito sia dei frati che delle clarisse cappuccine e poi ancora per concludere ma forse dimentico qualcosa il 13 agosto una commemorazione importante di un nostro caro amico padre marciano morra che trasmetteremo in diretta dal suo paese natale di monte leone di puglia dunque come dicevo una settimana importante una settimana impegnativa e noi saremo qui per fare compagnie per informare i nostri telespettatori riguardo a questo a questo appunto a questi appuntamenti importanti della vita del santuario bene grazie leonardo ci ritroveremo più tardi credo che ti raggiungerà carlos vero sì ecco e volevo sottolineare questa cosa stamattina avremo carlos che è già pronto ma tra pochi istanti avremo il piacere di averlo qui in diretta per comunicare delle novità importanti riguardo alla vita del santuario e alle modalità di accesso viste anche le ultime normative in vigore dallo scorso 6 di agosto quindi invito i nostri telespettatori a rimanere sintonizzati perché si tratta di informazioni molto importanti non solo per chi sta per raggiungere san giovanni rotondo ma anche per chi lo farà nel prossimo futuro a te paola benissimo grazie allora più tardi con leonardo e carlos e allora noi ricordiamo come accade ogni giorno il santo o la santa che la chiesa ricorda e festeggia oggi santa teresa benedetta della croce edith stein vergine martire nata in polonia nel 1891 morta ad auschwitz il 9 agosto del 1942 nasce a breslavia allevata nei valori della religione israelitica a 14 anni abbandona la fede dei padri divenendo agnostica nel 1921 si converte al cattolicesimo ricevendo il battesimo nel 1922 insegna per otto anni ma la sua attività viene sospesa dopo circa un anno a causa delle leggi razziali nel 1933 assecondando un desiderio lungamente accarezzato entra come postulante al carmelo di colonia assume il nome di suor benedetta della croce il 2 agosto 1942 viene prelevata dalla gestapo e deportata nel campo di sterminio di auschwitz birkenau dove il 9 agosto muore nella camera gas nel 1987 viene proclamata beata e canonizzata da giovanni paolo secondo l'undici ottobre del 1998 e nel 1999 viene dichiarata con santa brigida di svezia e santa caterina da siena compatrona dell'europa e allora facciamo gli auguri di buono nomastico a coloro che portano questo bellissimo nome santa teresa benedetta e allora scopriamo invece quali sono i fatti che hanno caratterizzato la giornata di oggi nel corso degli anni era il 1892 quando thomas edison ottiene il brevetto per il telegrafo bidirezionale ecco insieme al telefono al telefono quello un po' più antico c'è anche il telegrafo nel 1973 invece viene lanciata la quattordicesima sonda verso marte nell'ambito della missione russa mars 7 la sonda raggiungerà il pianeta il 9 marzo del 1974 ed invierà alla terra alcuni dati invece nel 1974 il presidente americano nixon il presidente numero 37 si dimette dall'incarico è la prima volta che un presidente presenta le dimissioni con le quali vuole evitare di essere destituito tramite impeachment per il ruolo svolto nello scandalo watergate il suo vice gerald ford presta giuramento e diventa il 38esimo presidente americano e oggi 9 agosto vogliamo ricordare anche un altro fatto di storia di cronaca che ci riguarda più da vicino era appunto il 9 agosto del 2017 quando presso la stazione ferroviaria dismessa di san marco il lamis un commando composto da tre uomini uccide a colpi di kalashnikov il boss mario luciano romito e suo cognato nell'agguato vengono uccisi anche luigi e aurelio luciani due agricoltori fratelli vittime innocenti perché testimoni scomodi dell'agguato di mafia stavano raggiungendo la loro terra come ogni mattina per il lavoro nei campi e il 9 agosto ormai una data impressa nella memoria di questa terra della nostra terra la data che ha fatto prendere coscienza della crudeltà di questa mafia ma anche del lavoro di tanti cittadini onesti che cercano di combattere ogni giorno la criminalità in questi luoghi vogliamo ricordare i fratelli luciani luigi e aurelio con le parole della moglie di luigi arcangela petrucci nostra ospite nel 2019 e prima prima di quel giorno io pensavo che c'erano organizzazioni criminali sulla nostra zona ma subito ma dicevo sempre a noi non può succedere mai niente perché tutto sommato siamo delle brave persone e soprattutto la frase che oggi non direi più è ci facciamo gli affari nostri eppure il 9 agosto 2017 la mafia è entrata in casa nostra con una violenza inaudita ha portato via luigi ha portato via aurelio due bravi ragazzi seri onesti due ragazzi semplici ma con una grande dignità e sani e saldi principi e valori per io non so ecco se dire vivo o in questo momento o negli ultimi due anni sopravvivo perché devo ancora rendermi completamente conto che luigi non c'è più perché ogni tanto ancora oggi io aspetto sempre che si apra la porta di casa ed entri poi dopo di che arrivi un certo punto in cui dici cosa che più volte mi sono chiesta adesso cosa faccio resto in casa piango mi lamento e vado pian pianino a fondo oppure pian pianino mi rialzo e come lo faccio rimboccandomi le maniche e contribuendo nel mio piccolo a migliorare questa nostra realtà realtà che oggi sicuramente ci piace solo a metà non più da spettatrice ma in prima linea accanto a tutti coloro che fanno fronte comune contro qualsiasi forma di violenza e poi io ho un bambino che da pochi giorni ha compiuto tre anni e anche dei nipoti la più piccola Angela ha quasi due anni non ha non ha mai conosciuto il papà aurelio perché è nata dopo la morte di suo padre ecco i nostri figli devono ancora poter credere e sperare in un futuro migliore i nostri figli devono poter credere e sperare in un futuro migliore sono sempre edificanti le parole di arcangela petruccia appunto moglie di luigi che insieme a suo fratello aurelio sono stati uccisi vittime innocenti della mafia appunto in questo agguato del 9 agosto del 2017 e chiedo alla regia non so se siamo pronti a collegarci con leonardo e carlos nella chiesa di san pio si rivedo prontissimi allora al consiglio di lettura lo diamo dopo allora siamo prontissimi a collegarci con eccoci leonardo e carlos eccoci eccoci ci hai presi alla sprovvista paola però siamo pronti allora come dicevamo prima a partire dallo scorso 6 agosto sono entrate in vigore nuove norme riguardo l'accesso ad alcuni luoghi pubblici il dibattito sul famoso green pass non stiamo qui a spiegare di cosa si tratta però per il santuario assume anche delle dei connotati importanti perché queste novità interessano anche questi luoghi di preghiera e di culto e quindi do il benvenuto a carlos dell'ufficio accoglienza pellegrini che ci spiegherà nel dettaglio di cosa si tratta grazie sì grazie reo allora sì noi iniziamo diciamo anche con il chiedere scusa ai pellegrini se soprattutto domenica scorsa hanno avuto delle difficoltà nell'accesso ma purtroppo come vedete queste norme cambiano in maniera veloce quindi diventa anche per noi difficile starci dietro e comunicare per tempo quelle che sono le nuove applicazioni allora come i più attenti sapranno per quanto riguarda il green pass non è d'obbligo per i luoghi di culto ora però noi dobbiamo capire bene i nostri amici pellegrini penso che abbiano bene più o meno presente tutta tutta l'area del nostro santuario quindi sicuramente il green pass non è necessario per accedere nella chiesa di san pio come per accedere nella chiesa di santa maria delle grazie o nella chiesetta antica come anche per andare giù dove ci sono le reliquie di san pio quindi tutti quelli che sono i luoghi di preghiera rimangono esenti da questo obbligo però lo stesso ahimè non vale per quella parte più squisitamente museale quindi per intenderci per i più quelli che più conoscono la realtà del nostro santuario dalla cripta di santa maria delle grazie dove non c'è oggi il corpo di san pio e ricordiamolo quindi dalla cripta di santa maria delle grazie a seguire nel percorso che va alla cella ai musei veri e propri fino ad arrivare al crocifisso ci sarà l'obbligo di presentare il green pass lì troverete i nostri operatori che vi chiederanno questo documento ora leo già l'ha detto ma io ci tengo un po a ribadirlo non sono invenzioni dei frati questi non siamo noi che ci divertiamo da oggi a mettere questo ulteriore peso immaginate quanto può costare anche in termini di lavoro a noi sono obblighi di legge come si dice dura l'ex sed l'ex non non dipende da noi è così il dato di fatto è questo e non siamo neanche noi le persone con cui discutere se sia giusto non giusto il dato di fatto è questo quindi per accedere da quei luoghi e naturalmente c'è bisogno di questo green pass noi non abbiamo la possibilità di esentare nessuno quindi quelle che sono le disposizioni quelle vengono applicate green pass o documentazione che certifichi insomma che dia al via libera quelle sono le disposizioni di legge che troviamo sono esentati i minori di 12 anni e quindi ci vuole un po di pazienza sono tempi difficili ce lo stiamo dicendo da un po di tempo godiamoci quello che riusciamo a godere quindi poi per il resto ripeto non è il santuario il luogo per entrare in polemiche che oggettivamente non ci riguardano quindi vi ricordo i luoghi di culto sono esenti ad oggi quindi si può partecipare alle celebrazioni si può andare a fare il proprio pellegrinaggio da san pio la parte più della visita la cella di padre pio i musei hanno necessità di questo green pass per l'accesso quindi non nulla di spaventoso nulla di trascendente quindi quando venite qui l'operazione di controllo è velocissimo la vero non avere il green pass ripeto poi sono scelte anche quella vaccinale in cui ripeto non sta a noi entrare di cui naturalmente non vogliamo discutere sicuramente in questi canali si ricordiamo anche che per avere green pass oltre al vaccino come ricordava carlos qualora qualcuno non l'avesse necessario aver effettuato un tampone 48 ore prima del della visita nel luogo prescelto quindi ovviamente il legislatore ha previsto più opzioni per poter accedere a questo tipo di documentazione ovviamente i siti internet ma anche diciamo le televisioni sono piene di tutte le informazioni non sta a noi dare ovviamente nel dettaglio quello che carlos sottolinea e che ovviamente si tratta di un'operazione molto veloce pochissimi secondi due tre secondi però è necessario diciamo arrivare premuniti onde evitare eventuali code che ci possono essere nell'accesso ai luoghi museali ci teniamo a sottolinearlo perché come abbiamo anche visto adesso mentre carlos parlava gente è entrata tranquillamente con la mascherina come prescrive la norma senza dover esibire niente un luogo di culto non c'è bisogno di questo tipo di documentazione sanitaria che attesta appunto l'ipotetica ovviamente negatività al al covid detto questo che è un aspetto molto importante che ci tenevamo a sottolineare perché la norma è entrata in vigore purtroppo poi come ben sappiamo in questo periodo le norme cambiano quindi potrebbero esserci anche delle variazioni esatto i canali internet del santuario saranno prontamente aggiornati credo per poter ecco affrontare tutto questo sì sì naturalmente noi rimaniamo sempre a disposizione ripeto io questo l'aspetto leo scusa se sono ripetitivo che ci tenevo a sottolineare non sono indicazioni alcuni ci scrivono ma voi frati anche non è non è non c'è possibilità di scelta in questa situazione non è una cosa che ci consigliano di fare per cui noi decidiamo di farla o meno è così è obbligo di legge quindi capiamo tutto voi dovete capire anche noi voglio dire io mi sento solo di dire questo anche qualcuno ha avuto qualche confronto con i frati è giusto non è giusto non siamo noi le persone con cui dover discutere di queste cose naturalmente poi per il resto il pellegrinaggio riprende noi qui vi aspettiamo e quindi naturalmente vi aspettiamo proprio come si dice veramente a braccia aperte quindi sicuramente abbiamo visto la vostra partecipazione la vostra presenza in questi luoghi quindi non ci fate mancare il vostro appoggio noi siamo qui per aiutarvi non per creare difficoltà e quindi per qualunque dubbio sapete il nostro sito di riferimento conventosantuariopadrepio.it anche il riferimento della tv tele radio padre il nostro numero di telefono quindi noi siamo sempre a disposizione per darvi tutte quelle che sono le indicazioni possibili e poi naturalmente facciamo tutti attenzione di volta in volta di quelle che saranno le indicazioni che ci daranno naturalmente organi superiori a noi leonardo puoi chiedere a carlos se è previsto un incremento di gruppi o di pellegrini in questa settimana appunto la settimana clou dell'estate. Sì Paola da studio chiede se in questa settimana è previsto un incremento dell'afflusso dei pellegrini. Sì crediamo di sì perché diciamo nello storico del flusso dei pellegrini idealmente noi identifichiamo il 10 agosto quindi la festa di lo spartiacque tra il periodo delle vacanze e l'inizio dei veri e propri pellegrinaggi. In quest'anno stiamo riscontrando ancora la presenza abbiamo visto con piacere ne avremo ancora diversi gruppi di gruppi di giovani delle parrocchie che si iniziano a muovere quindi San Giovanni inizia ad essere anche col punto di riferimento dei classici campi scuola chiunque ha frequentato una parrocchia un santuario quindi sa che di cosa parliamo di quei bei movimenti giovanili noi con Paola soprattutto ricordiamo di quando avevamo qualche capello bianco in meno i tempi d'oro di quando anche noi facevamo parte di questi gruppi che si muovevano per l'Italia e quindi stiamo riscontrando la presenza di questi gruppi giovanili che sicuramente ci fa piacere mancano i gruppi stranieri e mancheranno ancora anche perché lì l'incertezza è raddoppiata se non triplicata rispetto ai gruppi italiani perché loro si devono mettere in viaggio programmare con un aereo quindi diventa molto più difficile per loro e nell'incertezza molti hanno preferito desistere gli stranieri arrivano a gruppi personali quindi come molti in viaggio però noi per settembre siamo fiduciosi diversi gruppi hanno espresso il desiderio di venire da San Pio quindi avremo belle testimonianze senz'altro Leo. Quindi per Paola poi ti lascio subito la linea per ribadire ecco le nuove disposizioni per accedere a questi luoghi per accedere ai luoghi di culto quindi chiesa San Pio chiesa Santa Maria delle Grazie cripta di San Pio dove c'è il corpo del santo di padre Pio non c'è bisogno di alcun tipo di green pass solamente l'obbligo della mascherina che rimane come tutti ben sappiamo al chiuso mentre per quanto riguarda l'accesso ai cosiddetti poli museali passami un po' il termine ecco della chiesa di Santa Maria delle Grazie quindi la cripta con tutto il vecchio percorso che porta la cela di padre Pio e al crocifisso delle stimmate all'entrata vi sarà richiesto il green pass o cartaceo o digitale che sia alla stessa validità ecco Paola non so se c'è altro da studio altrimenti ti lascio la linea. No potete potete andare. Allora scusami Paola non so se siamo corti con la pubblicità perché vorrei anche ricordare i nostri amici a proposito degli appuntamenti della vita del santuario ne approfitto della presenza di Carlos riguardo a ciò che avverrà anche il 15 agosto è una data importante perché qui ricordiamo le missioni e il santuario di padre Pio e i frati di padre Pio sono molto attivi da questo punto di vista e ci sarà una giornata particolare. Sì sì la giornata del 15 agosto è sempre dedicata alle missioni quindi con la presenza dei nostri frati soprattutto nel Chad nel Centrafica quindi è una presenza ormai storica lì c'è una vice provincia quindi loro stanno iniziando a camminare con le loro con le loro gambe anche dal punto di vista del clero però c'è sempre il supporto della nostra provincia religiosa quindi vedrete per i nostri telespettatori le messe del 15 agosto ci sarà sempre un riferimento alle missioni quindi un invito anche a sostenere le missioni non solo con la preghiera ma anche dal punto di vista materiale ci prepareremo a quest'evento con tre giorni di preparazione il triduo missionario quindi 12 13 e 14 anche nella messa delle 11 e 30 che seguirà proprio questi nostri appuntamenti ci sarà sempre un missionario che parlerà quindi in riferimento a questa giornata missionaria poi del 15 agosto bene a te paola grazie 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 leonardo grazie carlos per essere stati con noi in qualsiasi momento sapete potete richiederci la linea qualora ci fossero aggiornamenti chiedo scusa alla regia restituisco subito la linea per una brevissima pausa pubblicitaria sono le 11 e 10 proprio in questo istante vorrei ricordarvi che all'interno del nostro tempo d'estate abbiamo uno spazio dedicato alle vostre foto di gruppo ricordi di pellegrinaggi che vogliamo condividere con voi e che voi volete naturalmente condividere con noi l'indirizzo al quale inviarcele è info chioccio la tele radio padre pio punto it prima di scoprire quali sono le foto di oggi che avete deciso di condividere con gli amici di padre pio tv vi diamo un consiglio di lettura il libro che vi presentiamo oggi è scritto da un giovane sacerdote diventato uno youtuber e i suoi video su youtube parlano di fede e sono rivolti ai più giovani ma perché no anche ai più grandi il libro si intitola la tua vita è la mia è firmato da don alberto ravagnani edito dalla rizzoni e racconta la storia di due ragazzi di 17 e 18 anni che sono federico e riccardo due vite diverse due situazioni familiari completamente opposte due così dovrebbero cordialmente detestarsi soprattutto se poi si innamorano della stessa ragazza che ne sceglie uno e infatti è proprio quello che succede in mezzo a tutto questo lo zampino del parroco don andrea giovane parroco di san filippo che gira in centro su un monoruoto elettrico e che non disdegna instagram per parlare al cuore dei suoi ragazzi dunque don andrea ci mette lo zampino e tra mille differenze reciproche questi due ragazzi federico riccardo iniziano a scrutarsi poi si avvicinano e diventano amici inseparabili lo saranno per sempre ma chi lo sa bisogna leggere il libro di don alberto ravagnani come dicevo diventato famosissimo e popolare sui social per i suoi video che parlano di fede in maniera molto schietta e sincera la tua vita e la mia edito dalla rizzoli e come ci piace dire ogni giorno apriamo l'archivio di padre pio tv apriamo le nostre teche che sono sempre apprezzate dai tanti telespettatori che ci seguono partiamo con un ricordo firmato da un confratello di padre pio che padre eusemio notte fatto da ricordare il 1903 il 6 gennaio quando padre pio partita pietrecina per entrare in convento era il giorno dell'epifania andò ad ascoltarsi la messa poi torno a casa c'era tanta gente diceva padre pio mi vergognavo di piangere per non piangere mi mordevo le labbra ma le le mamma non ce la mordeva non ce le mordeva sicché al momento dell'abbraccio la mamma svenne per il dolore un po d'aceto sotto il naso rinvenne e poi rivolto alla gente chi si scusa rivolta al figlio di sé figlio mio questa tua partenza oggi mi straccia il cuore ma san vangesco ti chiama e tu devi andare diceva padre pio povera mamma si è vista a cercare le tasche di un vecchio grembiole in una tasca trovo il fazzoletto si asciugò le lacrime nell'altra tasca trovo la sua corona indracciata con lo spango e qui che voleva arrivare la prese la baciò la dire al figlio adesso prendi figlio mio e parti contento perché tu dovunque andrai avrai sempre con te la protezione della madonna e il cuore della mamma tua lungo tutto il percorso della vita fino all'ultimo momento quando la madonna e tia peppa vennero a prenderselo per portarselo in paradiso una strana coincidenza il 22 settembre alle ore 9 cioè il giorno prima che morisse era stata ultimata la cripta ed era stata benedetta quindi a tempo a tempo proprio e a proposito della cripta devo raccontare un fatto quando stavo io qui si lavorava per la cripta rumora non finire un bel giorno padre pio disse né moglie ma che stanno facendo là sotto e dico padre preparano la casa per lei capì che era la cripta dove doveva si commossa e disse ma chi fa questo certamente non avrà la mia benedizione perché io non sono degno neppure di essere seppellito nell'ultimo canto del cimitero questa è umiltà questa è sandità che veramente dalla cripta è passata sull'altare e diventa veramente come modello di vita e di orgoglio perché no per tutti noi che siamo suoi figli spirituali che belli questi ricordi queste storie questi aneddoti che padre eusebio ci ha lasciato provvidenzialmente lui che ha avuto il privilegio di conoscere il santo di pietrelcina voglio però prima di continuare con le nostre teche mostrarvi le foto di oggi le foto dei vostri pellegrinaggi a san giovanni rotondo come sempre siamo felici di poterle condividere con i nostri telespettatori la prima foto risale a qualche anno fa forse più di qualche erano gli anni 80 85 il gruppo di roma che guidato dalla signora giarrizzo una foto davvero d'altri tempi anche nel modo insomma in cui questi queste persone si vestivano ecco da proprio il sapore dell'antico ma davvero del bello e quasi anche un po del nostalgico andiamo un po ai giorni nostri un'altra foto ricordo del 2009 quindi sono passati una decina d'anni e questo gruppo è un pellegrinaggio del 2009 di mario e borsato e lorena boschiero sono pellegrini di bagnolo di poi in provincia di rovigo per devozione si sono uniti ad un pellegrinaggio organizzato da un gruppo di santa maria maddalena sempre in provincia di rovigo quindi era il primo settembre del 2009 in un certo senso ci colleghiamo anche a quello che diceva carlos nell'ufficio accoglienza pellegrini che dal 10 agosto in poi anche poi dal 15 agosto noi festeggiamo l'assunzione della vergine maria quindi come dire il ferragosto è un po più un dicitura laica e quindi cominciano i pellegrinaggi che poi vanno a incrementarsi l'ultima settimana di agosto per poi avere il loro clou nel mese di settembre speriamo che anche quest'anno sia così e allora proseguiamo con le nostre teche prima poi di fare un'altra pausa pubblicitaria monsignor pierino galeone che ha conosciuto padre pio e anche oggi vuole regalarci una storia legata al santo di pietrelcina lui confessava e entrò un uomo dalla porticina di destra che viene dalla chiesetta nella sagrestia entrò un uomo alto robusto bello già caricata pantrone rigate padre pio confessava a destra entrando dalla chiesetta nella sagrestia e questo uomo che c'era la fila di persone prenotate lui passò dove c'è una tendina lì ed io dicevo il proprio piano di rimpetto ero solo padre pio di qua io di rimpetto lo vedevo padre pio questo uomo senza tener conto di nessuno uscito il penitente da padre pio entrò a lui subito ma rimase in piedi tutto un tratto dopo un paio di minuti scomparve lui e c'era un come un elettro proprio con dei come chiamarle queste queste code tutte così girate poi scomparve sotto terra ma io dice padre voglio sapere che è successo dopo un anno uscì un libro di giovanni papini celestino sesto il quale diceva che i demoni dopo un migliaio di anni si avrebbero entrati in paradiso c'erano diversi medici parlavano padre pio padre pio stava zitto ma padre lei cosa ne dice questo avverrà io ricordo di aver letto che una volta un umile sacerdote confessava in sacrestia e a un certo punto un uomo senza il racconto di quelli che aspettavano entrò dove trovava il sacerdote a confessare e rimase dritto in piedi il sacerdote gli chiese perché non ti inginocchi? dice non posso pensando che fosse ammalato che non potesse agginocchiarsi il sacerdote dice beh dimmi i peccati e sembrava che avesse tutti i peccati in questo mondo quell'uomo là poi alla fine il sacerdote gli chiese beh adesso piega un tantino il capo per darti la soluzione quell'uomo rispose non posso il sacerdote dice ma la mattina quando diventi i pantaloni ti piega un po' quel capo risponde quell'uomo io sono lucifero nel mio regno non esiste piegatura e scomparve sotto terra tutti quanti ghiacciamo finito poi questo racconto saldiamo tutti quanti dalla veranda io mi avvicino a padre Pio alla stanzetta numero uno mentre lui stava ancora sotto vicino alla porta padre ma io ero presente quel sacerdote confessava era lei no figlio mio lui cominciò a schermirsi padre ma ero presente lui dice no 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 dopo le mie insistenti si figlio mio è capitato anche a me ma non ho detto la bugia ho letto anche di un altro sacerdote e allora quando con lucifero sprofondo a terra non c'era più padre Pio seduto lì ma era Gesù padre Pio stava in alto in alto poi dopo piano piano scese e si abbracciarono tutti e due e vedi solo poi padre Pio lì non vedi più Gesù quindi questa volta la messa al confessionale di Dio Lucifero grazie a tutti